L'iter dal comitato, lascerei la parola a Carla Cosentino per la fotografia della strategia d'Ara dal punto di vista dell'Agenzia per la coesione territoriale. Innanzitutto buongiorno a tutti. Io mi volevo unire ai ringraziamenti di Sabrina per l'organizzazione di questo evento. Diciamo che per me è la prima volta che vi partecipo, è un'occasione importante perché ho l'opportunità di conoscere una località particolare e questo mi dà anche la misura del fatto che ogni area interna è qualcosa di particolare, le cui peculiarità vanno appunto salvaguardate. Questo essere sul posto dà anche un senso e un contenuto maggiore al lavoro che noi facciamo sostanzialmente in ufficio e quindi dà anche la misura dell'importanza di quello che facciamo. Un breve saluto, non voglio rubare altro tempo con il mio saluto, passo da subito a dare un quadro dell'attuazione cioè di quello che abbiamo fatto e stiamo portando avanti più o meno da circa un anno, un anno e mezzo da quando appunto le prime strategie si sono chiuse. Allora innanzitutto due parole sul ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale perché appunto ci si può chiedere appunto nell'ambito dell'improvazione della strategia appunto della struttura rappresentata da Sabrina del Comitato Area Interne che opera presso il Dipartimento. Poi appunto per quanto riguarda poi la fase attuativa che appunto in un primo step si concretizza nell'accordo di programma quadro la palla passa all'Agenzia per la coesione territoriale che appunto è nata qualche anno fa con l'obiettivo di sostenere, promuovere, accompagnare programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica e in quest'ambito appunto trova collocazione anche la fase attuativa delle strategie aree interne. e quindi supporta le aree nel passaggio dalla strategia all'accordo a questa peculiare attività, cura l'istruttoria per la definizione degli impegni e degli interventi, garantisce l'alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'accordo. Ecco in questi tre punti sono sintetizzate le attività che l'Agenzia svolge in relazione all'attuazione della strategia. Quali sono i vari passaggi in cui si concretizza questa fase? Allora abbiamo un avvio dei lavori, quindi noi riceviamo dalla strategia la documentazione, tutto il dossier integrato con le schede, il dossier completo e praticamente noi prendiamo contatto con l'area e quindi è praticamente curiamo la predisposizione degli atti. Ora la predisposizione degli atti implica diciamo una procedura standard che appunto se parte dai presupposti giusti e già definiti è anche abbastanza veloce perché appunto abbiamo la stesura materiale dell'accordo che è un atto insomma piuttosto complesso perché alla sottoscrizione di questo accordo partecipano dieci soggetti perché ci sono appunto oltre alla regione e all'amministrazione capofila e poi le amministrazioni centrali che sottoscrivono, che sono chiamate a sottoscrivere l'accordo e quindi in tutto arriviamo a dieci soggetti e quindi la procedura che si attua attraverso firma digitale è piuttosto lunga e in molti casi appunto incontra anche delle difficoltà da parte di alcune amministrazioni centrali. Quindi abbiamo la compilazione di questi format e quindi si apre un'interlocuzione con le strutture regionali e con le aree interne che porta alla definizione dell'atto e quindi praticamente ecco non voglio tediarvi con questa parte, diciamo conclusa questa parte di stesura dell'atto si passa poi alla firma e all'avvio degli interventi. Dopodiché appunto l'accordo di programma quadro, perché questo strumento? Perché diciamo da circa, insomma la PQ è nata circa vent'anni fa, più o meno nel 96 ed è lo strumento attuativo dove appunto vengono messe insieme le volontà e soprattutto le risorse dei soggetti che partecipano alla sottoscrizione dell'accordo, cioè nel suo ambito sono sanciti degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori e praticamente nella sua formulazione esso appunto definisce gli interventi, quindi è composto da schede che individuano i singoli interventi, che definiscono le tempistiche, le procedure, le fonti di finanziamento, cioè in sostanza appunto se vogliamo completa per il passaggio verso l'attuazione ciò che viene fatto nell'ambito della strategia, perché appunto la strategia individua le grandi finalità, un po' i macro processi. L'accordo di programma quadro invece scende necessariamente più nel dettaglio perché passando appunto ad una fase di attuazione è necessario sapere cosa appunto queste risorse messe in campo vanno a finanziare, anche perché appunto è previsto un monitoraggio di questi interventi che serve anche poi a dare il senso dei progressi e dei risultati che si ottengono con la messa in opera di queste strategie e quindi il monitoraggio è effettuato sui singoli interventi che vengono messi in opera, quindi è dato anche particolare rilievo ad altre figure e soggetti, quali il responsabile dell'accordo, i soggetti attuatori e quindi diciamo, ecco qui hanno fatto una visualizzazione, questo è l'accordo di programma quadro, ecco qui come si compone e quindi oltre al testo, all'articolato, ci sono appunto questi allegati che individuano gli interventi e le tempistiche. Quindi allora attività e interventi da realizzare, tempi e modalità di attuazione, soggetti responsabili e relativi impegni, risorse e copertura finanziaria, meccanismi di programmazione e di riprogrammazione delle economie, modalità di trasferimento delle risorse, ecco questi sono i vari punti che sono trattati nell'accordo di programma quadro, in particolare appunto mi vorrei soffermare sui meccanismi di riprogrammazione delle economie perché è ovvio che nell'ambito dell'attuazione degli interventi vi possono essere delle economie che devono essere riprogrammate e vengono riprogrammate nell'ambito appunto del medesimo APQ dell'area con ovviamente il parere del Comitato Area Interne perché le economie possono essere riprogrammate su nuovi interventi che devono essere coerenti con la strategia d'area che è stata approvata. Poi il sistema di gestione monitoraggio e controllo, ecco diciamo che questi ultimi due punti modalità di trasferimento delle risorse e sistema di gestione e controllo monitoraggio vedono in campo diciamo la presenza importante del Ministero delle Economie e Finanze di Grue, insomma con cui siamo costantemente in contatto anche per definire la soluzione di alcune problematiche che sono ancora in corso e appunto cercare di velocizzare il più possibile le operazioni. Quindi a questo punto ecco diciamo ci sono, qui vengono sintetizzate un po' queste procedure e quindi praticamente queste varie fasi, la salto perché insomma il tempo è breve, quindi i soggetti sono rappresentati in questa slide, quindi il responsabile unico delle parti, il responsabile unico dell'attuazione dell'accordo di programma quadro che ha una figura importante perché appunto è quello che è incaricato di seguire l'andamento dell'accordo di programma quadro e anche di rilevare laddove ci sono dei momenti di blocco ed eventualmente segnalarli proprio per poter trovare delle eventuali soluzioni. Il tavolo dei sottoscrittori è una peculiarità dell'accordo di programma quadro anche di questi accordi che è quello appunto che opera le riprogrammazioni, decide sulle eventuali insieme ovviamente in questo caso al comitato aria interna insieme alla sostituzione di eventuali interventi, all'integrazione e proprio in ragione appunto anche delle segnalazioni che vengono fatte dal responsabile unico delle parti oppure dal responsabile dell'accordo di programma quadro. Quindi ecco è uno strumento che consente se correttamente gestito e interpretato, consente di seguire l'andamento dell'attuazione degli interventi e anche di operare eventuali misure correttive laddove ce ne fosse necessità. Poi il soggetto capofila che è il sindaco a cui tutti i comuni dell'area progetto affidano il ruolo di rappresentante dell'area con atto di natura negoziale di cui parlava prima Sablina, il soggetto attuatore è la stazione appaltante che è centrale di committenza che opera per gli interventi e il responsabile dell'intervento cioè su ogni singolo intervento poi appunto vi è un responsabile che è responsabile del procedimento. Quindi questo è il quadro dei soggetti che operano nell'ambito del processo attuativo disegnato dall'accordo di programma quadro. Poi allora veniamo adesso allo stato di avanzamento degli APQ sottoscritti quindi a fronte delle strategie che sono state approvate e che sono pervenute approvate all'Agenzia per la coesione quindi abbiamo al momento 11 APQ sottoscritti in realtà 9 hanno completato la procedura di firma digitale che come dicevo è piuttosto lunga e 2 APQ sono attualmente in corso di firma e sono appunto Alta Carnia e Valli Maire Grana Valli Maire Grana è appunto l'ultimo APQ che abbiamo messo l'ultimo nato come APQ che abbiamo messo in campo qualche giorno fa la chiusura della procedura di condivisione e diciamo soprattutto i primi APQ Alta Valtellina, Val Chiavenna e Anconetano hanno scontato insomma una notevole lentezza dovuta purtroppo alla necessità di un convolgimento da parte delle amministrazioni centrali sottoscrittrici e a dei dubbi diciamo procedurali che erano stati si erano aperti diciamo con la delibera CIP e la 9 insomma che poi abbiamo provveduto a modificare e che non era chiara nell'individuazione dei soggetti capofila nelle procedure di erogazione quindi nel passaggio alla fase attuativa abbiamo dovuto in prima istanza diciamo effettuare delle modifiche adeguare la normativa esistente a tutto questo tipo di attività e di operazioni per poter appunto poi procedere più speditamente dopo e quindi una volta appunto che abbiamo definito queste procedure e quindi sgombrato il campo da determinati vuoti e lacune di carattere normativo abbiamo poi appunto proceduto con la sottoscrizione di questi altri APQ e attualmente diciamo il rallentamento che noi continuiamo a registrare in questa fase di sottoscrizione degli accordi è dovuto al fatto che appunto alcune amministrazioni centrali continuano a non essere veloci nella stesura degli accordi nella firma nel senso che una volta che noi facciamo insomma proceduralmente noi avviamo appunto la firma dell'accordo dopo che abbiamo diciamo provveduto a condividerlo ad attivare il processo di condivisione tra tutti i soggetti che devono firmarlo cioè prima di passare alla firma digitale noi l'APQ lo mandiamo in bozza a tutte le amministrazioni che lo devono firmare dandogli un tempo in media tre settimane in cui ci possono fare osservazioni, riscontri e quindi in modo da poter poi procedere speditamente ora cosa succede? che in molti casi non ci rispondono noi avviamo la firma di procedura di firma digitale e poi quando arriva sul tavolo del direttore generale che deve firmare l'accordo questo se lo tiene perché se lo deve guardare e quindi lì passa parecchio tempo e quindi questo insomma lo dico perché appunto diciamo visto che siamo in un'atmosfera di sincerità cioè purtroppo appunto c'è una lentezza che è dovuta proprio a questi aspetti procedurali perché non siamo ancora riusciti per esempio c'è un'APQ che è fermo al Ministero L'Alta Carnia che è fermo sul tavolo di un direttore del MIUR già da una decina di giorni e quindi noi sollecitiamo eccetera però appunto già firmato da altri 4-5 firmatari va bene comunque appunto allo stato attuale possiamo dire che abbiamo 11 APQ che hanno superato stanno superando la fase di firma poi abbiamo appunto 9 APQ che sono attualmente in istruttorie tra queste appunto quello che è più avanti di tutti è Madonie sul quale abbiamo ancora qualche questione da dirimere e poi insomma potremo procedere con l'attivazione della procedura di firma e quindi poi ecco in alcuni voglio appunto ci tengo a dire che in molti casi diciamo noi abbiamo comunque sempre un'interlocuzione costante con le aree e con le regioni cioè diciamo facciamo riunioni attiviamo videoconferenze abbiamo appunto incontri insomma anche telefonici eccetera e siamo appunto a disposizione per qualunque dubbio che riguarda la compilazione della stesura dell'accordo la compilazione di queste schede e quindi la chiusura dell'accordo di programma quadro e quindi diciamo con questi APQ in istruttoria noi stiamo lavorando in questo modo attraverso queste interlocuzioni cerchiamo di portare queste aree ad uno stadio insomma che li consente di arrivare alla stesura dell'accordo e quindi di poter avere il requisito per poter acquisire l'erogazione dell'anticipazione allora ha saltato una? vediamo ecco allora qui abbiamo sugli 11 APQ che abbiamo sottoscritto il totale delle risorse che sono che appunto ricadono su ciascun APQ quindi vediamo che l'Alta Irpinia complessivamente 26 milioni e poi appunto Val Chiavenna 21 milioni la Valtellina 19 milioni fino ad arrivare appunto l'Alta Carnia all'incirca 10 milioni allora da questo quadro cosa vediamo? che come sappiamo le risorse della legge di stabilità ammontano a 3 milioni e 7 più o meno e a fronte di questi 3 milioni e 7 però diciamo ogni strategia mobilita un monte risorse molto più ampio e quindi diciamo c'è un forte effetto insomma di trascinante da parte di queste risorse della legge di stabilità appunto per la mobilitazione di queste risorse che sono soprattutto incentrate sul FESR e quindi praticamente ecco insomma ad oggi sul complesso delle risorse tra legge di stabilità FESR, fondisie e altre risorse che sono appunto impegnate in accordi di programma quadro ammonta circa 160 milioni di euro ecco questa ciambella riporta appunto la ripartizione per fonte e quindi vediamo appunto che insomma il 24% circa una parte notevole è a valere sul PSR e quindi il FESR ha un 32% è diciamo la fonte che ha per la quale sono mobilitate la maggior parte delle risorse e quindi un certo ammontare il 10% circa sul fondo sociale e diciamo ecco il FEAMP ha il 25% circa questa vi dà l'idea della composizione delle risorse che ricadono su ciascun accordo di programma che ricadono nella massa degli accordi di programma quadro sottoscritti e allora queste sono questa slide vi mostra appunto per ciascun settore le risorse che sono complessivamente mobilitate e quindi sul complesso del specifico riferimento alle risorse per la legge di stabilità quindi ecco vediamo che sulla salute ci sono circa 13 milioni e mezzo la scuola 15 milioni e mezzo e sulla mobilità quasi 11 milioni cioè i 41 milioni che sono stati della legge di stabilità che sono stati sinora mobilitati in APQ sono ripartiti insomma in maniera in questo modo con una notevole diciamo con una notevole maggioranza di risorse che ricadono sulla scuola circa 15 milioni l'Alta Irpinia fa un po' eccezione perché ha investito soprattutto sulla salute cioè essenzialmente sulla salute infatti 3 milioni e 6 quasi delle risorse relative all'Alta Irpinia sono ricadono sul settore salute poi appunto qui abbiamo una ripartizione delle risorse per legge di stabilità e per settore c'è una trasposizione grafica della tabella che vi ho illustrato prima quindi qui abbiamo non so se si riescono a vedere ecco il numero degli interventi per area e il numero degli interventi ecco diciamo non è estremamente significativo perché possono essere di dimensione svariata il numero di per sé però da idea appunto della movimentazione di risorse di iniziative che c'è su ciascuna area la tabella appunto la seconda tabella riporta invece il raffronto tra interventi cosiddetti cantierabili che in realtà più cantierabili è un termine un po' generico in realtà quelli realizzabili e gli interventi che invece appunto la mole di interventi che non sono realizzabili ma che comunque abbiamo messo in APQ in quanto comunque individuati ecco questo ricalca un po' quello che diceva prima è la manifestazione pratica di quello che diceva prima Sabrina sulla importanza di arrivare ad una definizione di una strategia con un quadro di interventi anche se non perfezionato perché non potrebbe esserlo ma che diciamo consente di individuare quanto più possibile nel dettaglio appunto le azioni che si vogliono compiere perché in questo modo appunto anche la fase attuativa va in maniera più opera in maniera più spedita e quindi vediamo appunto che sostanzialmente a parte bassa valle dove c'è dunque che il numero di interventi cantierabili è a parte appunto Casentino Valtiberina e sud ovest orvietano e quindi diciamo in tutte le aree c'è una certa massa di interventi non cantierabili la valle dell'antola e del tiguglio a tutti interventi cantierabili e quindi diciamo ecco bisognerebbe cercare di arrivare alla stesura dell'APQ in una fase di maggiore velocità di realizzazione degli interventi anche per poter diciamo movimentare velocemente le risorse che sono messe a disposizione dunque invece questa slide illustra l'attivazione della procedura per richiesta di anticipazione della legge di stabilità e praticamente ecco per queste per le aree che hanno sottoscritto il passaggio successivo alla sottoscrizione dell'accordo è appunto l'invio dell'APQ al Ministero dell'Economia e Finanze insieme ad una tabella dove sono riportate esplicitamente sono riportati gli interventi finanziati con legge di stabilità dove appunto la regione indica appunto dichiara di essere lei l'amministrazione capofila per gli interventi che non sono di competenza del MIUR ecco diciamo che la delibera 80 che ha modificato la 9 ha praticamente dato la possibilità alle amministrazioni regionali di fungere da amministrazioni capofila e in realtà appunto l'unica amministrazione capofila che è rimasta delle tre che erano indicate dalla delibera precedente cioè salute e MIT oltre che MIUR appunto è il Ministero dell'Università e Ricerca per questo per la peculiarità degli interventi del MIUR che ha una diretta gestione e collegamento con i plessi scolastici invece appunto nel caso della salute e del trasporto pubblico locale questo collegamento diretto delle amministrazioni centrali con le ASL e con appunto il trasporto pubblico locale non c'è e quindi anzi queste sono strutture che operano in diretto contatto con la regione per questo motivo appunto questa delibera ha modificato integrato e modificato la precedente individuando la regione quale amministrazione capofila per questi interventi per gli interventi non MIUR finanziati dalla legge di stabilità ecco diciamo il quadro complessivo dell'attuazione insomma e delle procedure che vi ho voluto illustrare finisce qui che dire appunto alla luce appunto degli APQ sottoscritti e dell'anno che è trascorso dalla messa in opera dei primi APQ e quindi ci sono delle riflessioni che possono essere fatte quindi aspetti da migliorare e suggerimenti anche in vista appunto del lavoro sulle seconde aree quindi una progettazione locale degli interventi innanzitutto cioè rafforzare la maturità progettuale degli interventi fin dal momento della strategia individuando la modalità di attuazione il soggetto attuatore le voci di spesa e quindi praticamente bisogna fare un lavoro di accompagnamento anche per diciamo un'individuazione più compiuta delle azioni che si vanno a finanziare e quindi valutare un eventuale accompagnamento ai soggetti attuatori nella fase di realizzazione degli interventi infatti insomma penso che sia chiaro che l'accordo di programma quadro di per sé non significa attuazione dell'intervento l'accordo di programma quadro è una prima fase che lega la strategia alla attuazione concreta dell'intervento ma la sottoscrizione dell'accordo è un passaggio importante perché così appunto si possono si può fare si ha accesso all'erogazione delle anticipazioni da parte del del ministero dell'economia e finanze però ovviamente appunto è solo il primo passo ma l'attuazione è qualcosa di molto più complesso e che opera e che appunto richiede la messa in opera di azioni di sostegno sul territorio e quindi tutta una serie di attività insomma di operazioni che portano poi alla concreta realizzazione dell'intervento ma anche appunto ad un processo di accompagnamento da parte delle strutture locali in primo luogo da parte dell'ente regione e poi l'area interna della programmazione regionale dei fondi SIE ecco allora diciamo ci siamo resi conto appunto che in molti casi i finanziamenti delle risorse comunitarie che giustamente seguono il loro percorso non sono diciamo vincolati strettamente con le procedure sulle aree interne cioè praticamente bisognerebbe attivare un concorso un percorso preferenziale di queste risorse che insomma sono impiegate sulle aree interne quindi esigenze progettuali e programmazione regionale e quindi nella fase di attuazione occorrerebbe presidiare le scelte individuate in fase di strategia per appunto una più puntuale realizzazione degli interventi quindi procedure attuative per interventi finanziati con legge di stabilità cioè qui emerge un'importanza di condividere tra le regioni le procedure attuative in costruzione modalità di gestione e controllo attività di monitoraggio ecco questo è un punto che abbiamo trattato in una riunione che abbiamo recentemente svolto a Roma la settimana scorsa anche con appunto il ministero dell'economia e finanze dove in molti casi da parte delle strutture regionali è emersa una difficoltà appunto di seguire le procedure di monitoraggio sistema di gestione e controllo eccetera cioè in realtà appunto la norma e le delibere cipe lasciano abbastanza margine diciamo a ciascuna per ciascuna PQ a ciascuna regione sul sistema di gestione all'adozione del sistema di gestione e controllo comunque appunto ci sono alcune aree che hanno messo in atto queste attività procedurali a valle della sottoscrizione dell'accordo di programma quadro come per esempio Alta Irpinia che credo appunto domani o più tardi farà una presentazione delle attività che ha messo in atto di come appunto ha affrontato il periodo e tutte le procedure a valle della sottoscrizione dell'accordo di programma quadro e quindi poi la governanza della fase di attuazione e quindi una ricomposizione del quadro dei soggetti identi e amministrazioni che hanno lavorato alla fase della programmazione della strategia valutando opportuni aggiustamenti in corso d'opera e quindi anche con un maggior coinvolgimento degli uffici regionali diciamo che sono delegati a seguire le aree interne e poi tempistica attenzione ai tempi sia per il passaggio da strategia da PQ che nell'attuazione degli interventi con diciamo un rispetto dei cronoprogrammi cioè anche la tempistica è importante per questi interventi perché appunto lo sviluppo della strategia che si passa poi attraverso si realizza attraverso interventi deve anche avere diciamo dei tempi congrui e quindi essere per dare proprio la possibilità di poter fruire del beneficio di tutto questo insomma di tutta questa attività per i cittadini messa in opera per i cittadini entro un tempo congruo grazie 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 grazie